... Lunedì 12 gennaio, buonasera, ben trovati dal consueto appuntamento con l'informazione pomerigliana, la segna stampa che è incentrata prevalentemente sul web e su tutti gli aggiornamenti dai principali siti di informazione. Partiamo subito allora con le notizie di cartello su Rai News, l'apertura è dedicata ai fatti di Parigi, caccia ai fiancheggiatori, Charlie, vignette su Maometto, questo è il titolo principale di oggi. Allora entriamo subito nel dettaglio per meglio comprendere quali sono gli aggiornamenti in merito a questa vicenda. Il giorno dopo la grande manifestazione di solidarietà alla Francia sotto attacco da parte del terrorismo jihadista, continuano le indagini sulla cellula di attentatori che il 7 gennaio scorso hanno attaccato la redazione del settimanale Charlie Hebdo, facendo 12 vittime e che due giorni dopo hanno tenuto per un'intera giornata la Francia intera nel terrore, fino ad essere uccisi dalle forze speciali. Charlie Hebdo, onora Charb, il direttore ucciso insieme ad altre 11 persone, dai due fratelli Franco Algerini e Quaci, seguendo il suo spirito, preferisco morire in piedi che vivere in ginocchio. Il settimanale non arretra e annuncia nel prossimo numero nuove vignette su Maometto. Charlie Hebdo arriverà nelle edicole il 14 gennaio con una tiratura eccezionale di un milione di copie. Il prossimo numero includerà ovviamente nuove vignette su Maometto, sulla politica e le religioni, ha detto a France Info, il legale del magazine francese, ricordando che lo spirito di Io sono Charlie significa anche diritto alla blasfemia. Ed è allerta massima per la sicurezza in Francia. Il governo ha ordinato lo schieramento di quasi 5.000 agenti a protezione delle scuole ebraiche. La decisione è stata assunta dopo che si è scoperto che Amede Koulibaly, l'autore del massacro di quattro ebrei nel negozio francese, sempre a Parigi, puntava a compiere una carneficina in un asilo ebraico. Inoltre, ha annunciato il ministro della difesa francese, il governo schiererà fino a 10.000 soldati a protezioni dei cosiddetti siti sensibili. Infine, non si spegne l'eco delle polemiche per le assenze a stelle e strisce dalla manifestazione di Parigi. Tra i 50 leader mondiali presenti in place della Repubblica, nessun alto rappresentante statunitense, non c'era il presidente americano Obama, come non c'era il suo vice. Era assente anche il segretario di Stato John Kerry, giustificato però dalla missione in India che lo vede impegnato in questi giorni. Proprio Kerry, nel tentativo di riparare alla mancata partecipazione, ha fatto sapere di voler volare in settimana nella capitale francese per portare la solidarietà americana alle vittime degli attacchi terroristici degli ultimi giorni. Per quanto riguarda l'attacco subito da Charlie Hebdo, sono davvero tanti gli attestati di stima, ma anche strani appoggi sono arrivati al giornale. Strani perché? Perché parliamo di Anonymous, un celebre gruppo di hacker che aveva dichiarato nei giorni scorsi che la strage non sarebbe rimasta impunita e bene Anonymous ha attaccato con le affilatissime armi dell'hacking. Come spiegato dagli stessi hacktivisti, lo scopo di Hop Charlie Hebdo è fare un elenco dei siti jihadisti in modo da ottenere una sorta di database. hanno fatto sapere che eventuali informazioni utili sui proprietari e sugli utenti, ad esempio, verranno fornite alle autorità. L'operazione contro i terroristi dell'Islam, deviato la loro presenza sul web, ne ha due filoni. Il primo è quello classico di entrare e ottenere tutte le informazioni possibili nei siti ritenuti megafono o simpatizzanti del jihad e in alcuni casi di mandarli offline. come è avvenuto con il sito estremista francofono Ansara Lack. L'oscuramento attuato in questo caso, che in gergo si chiama DDoS, è però controverso, tanto che alcuni utenti sulla stanza di chat utilizzata per guidare l'operazione scrivono di non farlo per evitare interferenze con il lavoro di intelligence messo in atto. Il gruppo ha infatti fatto sapere che eventuali informazioni trovate saranno messe a disposizione delle autorità competenti. L'obiettivo 2, invece, ovvero il secondo metodo di combattere il jihad sul web, è quello di segnalare gli account Twitter utilizzati dai terroristi in modo virale, in modo che vengano oscurati, come è avvenuto con alcuni. Le segnalazioni hanno superato quota 600. E ancora, un documentatissimo articolo di Wild spiega nel dettaglio come la rete orizzontale degli attivisti si stia proteggendo dal rischio che siti legati all'Islam, ma non al terrorismo, finiscano nel mirino. Ci sono madrelingua araba o urdu reclutati per l'operazione e vengono bannati tutti coloro che mettono offline siti per ragioni che esulano dall'estremismo. Quindi è un'operazione forte e quella che il gruppo di hacker più celebre al mondo sta portando avanti. Parliamo ancora di terrorismo. Questa volta, però, torniamo nella capitale. Ebbene, dopo l'attacco a Parigi è all'Arme Rosso anche in Italia. Il pericolo di attacchi terroristici è concreto. Si temono i cosiddetti foreign fighter, guerriglieri di ritorno. Fanatici partiti per la Siria, l'Iraq per poi tornare addestrati alla guerra. Non è un caso che l'ultimo video diffuso dai tagliagole dello Stato Islamico metta nel mirino Roma, la città che accoglie il pontefice. Ma padre Lombardi, portavoce della Santa Sede, smentisce, contrariamente a quanto diffuso da alcuni organi di informazione, non è vero che la Santa Sede abbia ricevuto segnalazioni di rischi specifici da servizi di sicurezza di altri paesi. Si conservano, ha assicurato, i normali e opportuni contatti fra servizi di sicurezza che, facendo riferimento alla situazione attuale, invitano ad attenzione e ragionevole prudenza, ma non risultano segnalazioni di motivi concreti e specifici di rischio. In questi giorni il questore ha rivisto e potenziato tutte le misure di sicurezza che comunque avevamo già aumentato nella città, ha detto il capo della Digos di Roma, Diego Parente, parlando della minaccia terroristica dopo gli attentati di Parigi. Abbiamo preso in considerazione, ha spiegato il capo della Digos di Roma, tutti gli obiettivi sensibili e Roma ne è piena, senza privilegiare uno a discapito di altri, ma li consideriamo tutti globalmente. Non c'è traccia di un allarme specifico contro il Vaticano, ma resta comunque un'allerta massima, ha affermato Parente, parlando delle notizie su un possibile attacco nei confronti del Vaticano da parte dei fondamentalisti islamici, così come riportato da alcuni siti internet stranieri. In servizio in Vaticano, ha spiegato il responsabile della Digos romana, era già cospicuo e sostanzioso ed è stato rivisto con tutto il sistema di sicurezza della città. Rafforzati sempre nella capitale i dispositivi di sicurezza al ghetto e alla scuola ebraica, i servizi sono stati rimodulati e potenziati davanti a tutti gli obiettivi sensibili, ha poi concluso Parente, tra questi anche le ambasciate, monumenti, luoghi di culto e redazioni di giornali e televisioni. A parlare è stato anche Papa Francesco di questa strage, frutto di una cultura che rigetta l'altro. Un Medio Oriente senza cristiani sarebbe un Medio Oriente sfigurato e mutilato, lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso di inizio anno al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, auspicando che i leader religiosi, politici e intellettuali, specialmente musulmani, condannino qualsiasi interpretazione fondamentalista ed estremista della religione voluta a giustificare tali atti di violenza. All'indomani della manifestazione oceanica andata in scena a Parigi e all'indomani degli attentati che hanno sconvolto la Francia, il Pontefice parla della strage di Charlie Hebdo. La tragica strage avvenuta a Parigi alcuni giorni fa nasce da una cultura che rigetta l'altro, recide i legami più intimi e veri, finendo per sciogliere e disgregare tutta quanta la società e per generare violenza e morte. Constatiamo con dolore le conseguenze drammatiche di questa mentalità del rifiuto e della cultura dell'asservimento. Nel continuo dilagare dei conflitti, ha detto ancora il Papa, come una vera e propria guerra mondiale combattuta a pezzi, ha poi aggiunto, essi toccano, seppure con forme e intensità diverse, varie zone del pianeta. Zone segnate dalla violenza come l'Ucraina, divenuta, dice il Papa, drammatico teatro di scontro e per la quale auspico che attraverso il dialogo si consolidino gli sforzi in atto per far cessare le ostilità e le parti coinvolte intraprendano quanto prima un rinnovato spirito di rispetto della legalità internazionale, un sincero cammino di fiducia reciproca e di riconciliazione. Quindi è questo l'auspicio del Papa a riguardo. Abbiamo parlato anche del terrorismo di Parigi che potrebbe arrivare anche a Roma, ma parleremo di questo aspetto tra pochissimo. Come vedete ci sono delle dichiarazioni di Renzi e non solo, intanto però un piccolo break e poi di nuovo in studio con gli altri aggiornamenti dalla Capitale. A tra poco.